L'unica forza politica a diffondere il programma elettorale è il Movimento 5 Stelle presente oggi in Piazza Martiri a Terra. Esattamente, noi siamo qui appunto l'unica forza politica che ha designato un candidato premier, l'unica forza politica che ha condiviso un programma elettorale con i cittadini italiani, adesso è in piazza per diffonderlo, i punti essenziali, lavoro, famiglia, istruzione. Noi chiediamo a tutti i cittadini di informarsi proprio nei banchetti che saranno allestiti nelle piazze. Noi siamo qui a disposizione e siamo gli unici che mostrano il simbolo e si presentano nelle piazze per parlare con la gente e siamo l'unica forza politica credibile al momento. La Regione Abruzzo, su proposta del Movimento 5 Stelle, ha approvato una legge regionale denominata Banca della Terra d'Abruzzo. In cosa consiste? Cosa prevede? Questa proposta del Movimento 5 Stelle consiste nel mettere a disposizione gratuitamente delle persone che ne faranno richiesta dei terreni incolti o abbandonati, proprio per incentivare delle nuove imprese, l'agricoltura e anche lo sviluppo di prodotti enogastronomici tipici della nostra terra. Per fare questo però è necessario che i comuni emanino un avviso pubblico, proprio per chiedere ai privati che vogliano mettere a disposizione questi terreni, appunto, che possano mettere a disposizione questi terreni. Il comune di Teramo però non ha ancora provveduto? Non ha ancora provveduto, mentre altri comuni hanno già emanato questo avviso. Noi chiediamo al Commissario Prefettizio e agli uffici preposti di adempire a questa disposizione di legge perché potrebbe essere una grande opportunità per il nostro territorio.